Due auto, una Opel Corsa e una Peugeot 2008 in collisione stamattina, poco prima delle 8 in via Motton a Bassano. Per causa è ancora al vaglio degli agenti di polizia locale intervenuti su chiamata dei carabinieri del locale comando compagnia. Le due auto si sono scontrate, ferite entrambe le conducenti, quella dell'Opel più gravemente, visto che la sua auto si è capottata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano per estrarla. Sul posto gli agenti di polizia locale che hanno provveduto a regolare il traffico in senso di marcia alternato.